Secondo le classifiche dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ravenna detiene il record di fabbriche a rischio di incidente rilevante di tutta Italia, con 23 impianti. Ravenna mantiene dagli anni 50 una doppia anima, da una parte i preziosi mosaici bizantini che ne fanno una città d'arte unica, dall'altra il polo industriale, situato a 7 km della città verso nord, lungo il porto canale. I standard adottati nell'area del petrolchimico di Ravenna sono i più alti possibili e i più alti consentiti dalla tecnologia. Il fatto stesso di avere la stragrande maggioranza degli impianti a rischio rinchiusi in un'area delimitata, un po' sul modello delle aree industriali tedesche, consente un pronto intervento, una pronta applicazione delle contromisure e un controllo veramente capillare di quello che accade all'interno degli stabilimenti. Bisogna preoccuparsi per la classifica dell'ISPRA? Direi assolutamente no. L'ISPRA dice semplicemente che ci sono moltissime aziende sottoposte alla normativa 6-3, che è quella che è più stringente e dedicata a quelle aziende che hanno un potenziale rischio di incidente rilevante, ma non per questo sono più rischiose di altre in assoluto. Abbiamo anzi la possibilità di conoscere alla perfezione le sostanze, le lavorazioni, svolgere ispezioni e avere dettagliati piani per contrastare qualunque tipo di emergenza nasca. Sottoposti Sottoposti